Siamo in compagnia del consigliare comunale di Arezzo, Angelo Rossi, che ha preso una posizione decisa contro questa proposta che è arrivata dal sindaco di Arezzo, Ghinelli, per far addirittura intervenire l'esercito in piena zona Saione. Rossi. Beh sì, io rispetto la posizione del sindaco e di chi la vede in quel modo lì, perché ha un suo senso logico effettivamente, una scelta di questo genere, però da domani noi di Saione, noi commercianti che ci abitiamo, siamo quelli che hanno bisogno dell'esercito per essere difesi e la cosa è francamente, l'ede decisamente quella che è l'immagine incrinata, già incrinata del quartiere di Saione, che secondo me l'ultima cosa che ha bisogno è quella di avere ulteriore attenzione da parte dei media e da parte di proposte forti di questo genere qui, perché è un quartiere che è problematico, che ha tanti problemi, ma come ce ne sono tanti ad Arezzo, cioè io penso che la situazione ad esempio in Piazza Giotto con la Caritas o altri parchi della città o via Fiorentina o Pescaiola siano in linea perfettamente con quello che può essere Saione, cioè questa attenzione mediatica che porta addirittura a avere l'importanza di portare l'esercito, è una cosa che lede molto l'immagine del quartiere che ha bisogno, anzi, di interventi, e questo è vero, seri, però più sotto traccia. Quel lavoro che è stato fatto splendidamente dalle forze dell'ordine l'ultimo anno e mezzo, perché ricordiamoci che Arezzo è stata via Piave o comunque sia via Vittorio Veneto sono stati l'epicentro di risse, di cose molto gravi a livello di ordine pubblico, non si verificano più e sfido chiunque a dire il contrario. La situazione è nettamente migliorata, cioè si sono impegnati con ronde di polizia anche notturni, hanno fatto degli interventi molto molto importanti e precisi che hanno portato a un miglioramento della situazione. Poi che ci siano delle sacche ancora molto gravi dove la situazione, penso a Campo di Marte o il Pionta, dove la situazione a causa che sono delle centrali di spaccio di droga, quello è innegabile, nessuno lo vuole negare, però sono cose che possiamo ritrovare o in qualsiasi altra parte della città o comunque sia anche dell'Italia. Si rischia di esasperare gli animi dei cittadini con queste dichiarazioni e soprattutto sembra quasi che il problema droga si sia scoperto nel 2018, la droga da quando mondo è mondo viene sempre venduta in qualsiasi città. Anche questa cosa qui, Campo di Marte e il Pionta, sembra che siano adesso che siano la centrale di spaccio di Arezzo, non è così. Chiunque sia cittadino e abbia vissuto, io per esempio ho 49 anni, mi ricordo effettivamente gli anni 80, e dagli anni 80 perlomeno da che ho rimembranza io, che quelle lì sono due aree di spaccio, c'è sempre stata, quindi non è che adesso c'è una recludescenza molto grave, è cambiato gli spacciatori, prima gli spacciatori erano bianchi, adesso sono neri, se dà fastidio quello, piuttosto che voglio dire, ho fatto una battuta, ma in questa maniera qui lo spaccio è sempre stato, a me dà fastidio lo spacciatore, non il colore della pelle che ha. Il compenso i consumatori sono al 99% bianchi? Assolutamente, quindi è un problema questo qui che è strutturato da diecenni, anzi, io mi spingo a dire che la situazione non è così grave come qualche decennio fa, dove chi lo ricorda, anni 70, anni 80, sono stati anni di piombo, nel quale l'eroina ha metuto vittime in tutta la città, tra tanti giovani, le siringhe erano da tutte le parti, quindi io questo me lo ricordo come trama quasi infantile, adesso non è così, insomma, quindi un po', non bisogna esagerare quelle che sono le situazioni, i problemi ci sono, hanno cercato di risolverli, questo non lo nega nessuno, ma tutto questo modo eclatante anche di porsi la parte di media che demonizzano questo quartiere, ecco, noi è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di tranquillità che le forze di polizia facciano il loro lavoro seriamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.